Buongiorno, oggi dedichiamo un po' di attenzione alla figura di uno dei tre angeli principali nominati nell'Antico Testamento e anche nel nuovo, almeno questo di cui ci occupiamo, cioè Gabriele. Allora io direi che partiamo innanzitutto da ciò che ne dice l'Enciclopedia della Bibbia, l'Enciclopedia Cattolica, dove scrivono soltanto specialisti, docenti. Qui, per esempio, la professoressa Arrabal, alla voce Gabriele, scrive esattamente questo. Intanto, in ebraico, Gabriele significa uomo di Dio, letteralmente è potere di un El, potenza di un El o Geber, cioè uomo forte di un El. E dice, nell'Antico Testamento appare solo nel libro di Daniele. Il suo aspetto è quello di un uomo e poi lo vediamo, però si dà ad intendere che ha ali come simbolo della sua spiritualità, obbedisce al Signore in tutto, si presenta quindi a Daniele e spiega pure il significato messianico delle 70 settimane, una delle profezie più trascendenti dell'Antico Testamento. Allora partiamo intanto da questo. Il libro di Daniele, per il canone della Bibbia Cattolica, è un libro profetico. Per il canone ebraico il libro di Daniele non è neppure un libro profetico. La Bibbia ebraica si chiama Tanakh, cioè Torah, Neviim o Ketuvim, perché è divisa in tre sezioni, la Torah, che è il nucleo fondamentale dell'Antico Testamento, i Neviim, che sono i profeti, e poi i Ketuvim, cioè gli scritti, diciamo nella parte meno importante. Ecco, Daniele è inserito nei Ketuvim, cioè non è neppure considerato un profeta, però nella profezia delle 70 settimane c'è di più, c'è la profezia in sostanza dei 490 anni. Su questo testo che è pubblicato negli Stati Uniti dove scrivono rabbini, docenti universitari, David Wolpe, che è il senior rabbi del tempio di Los Angeles, parlando proprio di questa profezia, che qui è definita una delle profezie più trascendenti dell'Antico Testamento, lui dice che qui Daniele vedendo che la previsione della libertà del popolo ebraico dall'esilio babilonese di fatto non si era ancora compiuta, non si era ancora realizzata, nonostante fossero abbondantemente passati i 70 anni che sarebbero stati previsti da Geremia, allora Daniele cosa fa? dice David Wolpe, ha revisionato la profezia, cioè Daniele ha rimaneggiato la profezia di Geremia facendola passare da 70 anni a 70 settimane di anni. Quindi, come dire, visto che le cose attese o sperate non si verificavano, non hanno fatto altro che allungare i tempi. Quindi questa che qui è definita una delle profezie più trascendenti dell'Antico Testamento, secondo il segno rabbi del tempio di Los Angeles, è in realtà un rimaneggiamento, cioè una falsificazione. Però torniamo a Daniele, questa è una prima curiosità e adesso ne vediamo altre. Quindi Daniele vede ad un certo punto arrivare questo angelo, cioè Gabriele. Andiamo nel libro di Daniele al capitolo 8 dove si dice appunto ora mentre io, Daniele, contemplavo la visione, cioè ciò che stavo vedendo e ne cercavo il significato, ecco apparire davanti a me una figura umana. Intesi la voce di un uomo presso il fiume Ulai che gridava diceva Gabriele spiega a costui la visione e Gabriele, insomma, fornisce una serie di spiegazioni. Poi ancora, sempre nel libro di Daniele, nel capitolo 9 al versetto 21 si dice Ancora io stavo parlando e pregando quando Gabriele, che avevo visto nella visione, cioè nell'incontro precedente, giunse volando fino a me all'ora dell'offerta della sera. Quindi, quando Gabriele giunse volando fino a me. Prendiamo un'altra Bibbia. sempre Daniele 9,21, questa è la Bibbia di Gerusalemme dove si dice esattamente Mentre dunque parlavo e pregavo, Gabriele, che io avevo visto prima in visione, volò veloce verso di me. Era l'ora dell'offerta della sera. Ora, qui si dice due volte che Gabriele, soltanto Gabriele, vola verso Daniele ma vediamo esattamente che cosa dice il testo ebraico. Allora qui vediamo la scritta ebraica del versetto 9,21 del libro di Daniele. Qui c'è scritto Ve Aish Gavriel che arriva e arriva come? Muaf Biaf e adesso vediamo esattamente che cosa significa. Aish significa l'uomo con l'articolo, quindi l'uomo Gabriele e Muaf Biaf significa essente, affaticato di fatica e adesso lo vediamo in un dizionario di etimologia ebraica. Questo è il dizionario Ernest Klein di etimologia ebraica pubblicato dall'Università di Haifa dove alla voce, alla radice Giaf si cita esattamente il versetto di Daniele 9,21 che abbiamo appena letto e dove si dice che l'espressione Muaf Biaf probabilmente significa affaticato con fatica. Quindi questo è il significato e adesso andiamo a vedere come viene reso in molte altre Bibbie. Allora abbiamo visto che intanto nell'ebraico c'è scritto che Aish Gavriel, cioè l'uomo Gabriele. Nelle due Bibbie che abbiamo letto ora il termine uomo non è minimamente preso in considerazione, è come se quella parola non esistesse perché in entrambe c'è solo scritto Gabriele. Perché non hanno tradotto il termine uomo? Perché Gabriele deve essere per forza un angelo e siccome è un angelo deve essere per forza un'entità spirituale, eterea. Invece no, abbiamo visto che in ebraico c'è scritto Aish, l'uomo Gabriele, e non in figura umana perché in figura vuol dire che è un'altra cosa che si presenta in figura. No, lì c'è scritto l'uomo ed è chiarissimo, non è una interpretazione. Ma vediamo come si comportano altre Bibbie. Per esempio questa Bibbia francese, sempre in 921, qui dice l'homme Gabriele, quindi qui riconosce il termine uomo e dice s'approcha de moi de un vol rapide, cioè di nuovo dice con volo rapido e lì abbiamo visto e poi ci entriamo nel merito che in realtà non si trattava di un volo rapido ma di un'azione che comportava fatica e vedremo come. Andiamo avanti. Questa Bibbia inglese ci dice esattamente, sempre per Daniele 921, the man Gabriele, cioè l'uomo Gabriele e qui di nuovo si parla di fly, cioè Gabriele che arriva in volo, perché riconoscono che è un uomo però lo fanno volare, il che di per sé potrebbe anche andare bene, perché forse qualcuno ricorderà che nel secondo video che è dedicato alle macchine volanti, quando ho parlato delle esperienze vissute da Zaccaria, si parla di donne volanti, quindi il fatto che là si parli di donne volanti e qui si parli di un uomo volante, tutto sommato potrebbe andar bene, purtroppo che in ebraico non ci sia scritto volante. La Bibbia di Re Giacomo, sempre quindi una Bibbia inglese, versetto 921, parla di the man Gabriele, cioè l'uomo Gabriele, ma anche qui si parla di fly, cioè del fatto che arriva volando, ancora una volta. La Sacra Bibbia pubblicata a Ginevra dalla società biblica, cosa dice? Dice esattamente quell'uomo Gabriele che avevo visto prima mandato con rapido volo si avvicinò a me, quindi anche qui riconosce che è un uomo, però anche qui dice che Gabriele arriva in volo. E' interessante vedere come ci siano diversi modi di approcciarsi alla Bibbia, così pure come fa questa Bibbia tedesca, sia questa della Conferenza Episcopale Cattolica tedesca, sia questa di Martino Nutero, entrambe riconoscono in Gabriele un uomo, ma entrambe dicono che comunque arriva volando. Quindi anche qui abbiamo il fatto che tengono conto che in ebraico c'è scritto Aish, però anche qui parlano di volo. E poi arriviamo alla traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture, cioè la Bibbia dei testimoni di Geova, dove il versetto 21 è reso così. E mentre ancora parlavo nella preghiera, ebbene l'uomo Gabriele, che avevo visto nella nella visione all'inizio, essendo stato reso affaticato dalla stanchezza, arrivava presso di me. Cioè la Bibbia dei testimoni di Geova riconosce finalmente che l'uomo Gabriele arriva stanco, essendo stato reso affaticato. Guardate, questa traduzione è particolarmente corretta. Perdonate se per una volta uso una terminologia tecnica, ma abbiamo visto prima che in ebraico c'è scritto Muaf, Biaf. Ora Muaf è un participio nella forma Ofal, che è la forma che viene definita causativa passiva, cioè vuol dire che c'è qualcosa o qualcuno che ha fatto sì che lui si affaticasse. E qui questa Bibbia riconosce proprio questo aspetto, cioè la forma precisa del verbo ebraico, essendo stato reso affaticato, cioè c'è qualcosa che gli ha fatto fare fatica. E qui potrebbe essere un qualcosa o un qualcuno, magari chi gli ha ordinato appunto, come abbiamo letto prima, di andare da Daniele e spiegargli tutta una serie di cose. Quindi, come vedete, siamo di fronte veramente ad una serie di traduzioni che in alcuni casi addirittura fanno finta che non ci sia neppure il termine uomo. Nella maggior parte dei casi dicono che questo Gabriele, visto che è un angelo, necessariamente deve arrivare volando, invece in ebraico, nel dizionario di etimologia e, devo dire, nella Bibbia dei testimoni diceva, invece si riconosce che lui arriva essente affaticato con fatica, essente affaticato di fatica o essente affaticato per la fatica, non ha importanza. L'importante è capire che Gabriele è un uomo che si può stancare. Nulla ha a che vedere con la figura eterica, spirituale, cosiddetta angelica, alla quale siamo abituati. In effetti, se noi prendiamo questo interessantissimo lavoro del Gesuita Jean Danielou, che è cardinale, docente universitario nonché accademico di Francia, quando parla della figura di Gabriele, ne fa un'analisi molto lunga ovviamente, non vi sto a leggere tutto, vi leggo le conclusioni, partendo per esempio dall'analisi dell'ascensione di Isaia, dice che si può mostrare più esplicitamente che l'angelo dello Spirito Santo è proprio una trasposizione del tema giudaico di Gabriele. In realtà, dice nell'ascensione, vediamo Gabriele esercitare tutte le funzioni che sono quelle dell'angelo dello Spirito Santo, il che ci permette di concludere ad un tempo che l'angelo dello Spirito Santo dell'ascensione è una cristianizzazione del tema giudaico di Gabriele e che, inversamente, è proprio lo Spirito Santo che bisogna riconoscere nel Gabriele dei libri, appunto, dei testi che lui esamina. E, diciamo, riassumendo un po' l'analisi che lui fa dei suoi testi, ad un certo punto dice che gli altri usi dell'espressione, cioè di questa identificazione di cui abbiamo parlato prima, impongono questa interpretazione, cioè questa identificazione dell'angelo dello Spirito Santo con lo Spirito Santo e dello Spirito Santo con Gabriele. Difatti dice l'angelo dello Spirito Santo è dunque Gabriele, e qui l'affermazione è importantissima, ma poiché abbiamo stabilito che l'angelo dello Spirito Santo è lo Spirito Santo, abbiamo qui un'assimilazione dell'angelo Gabriele allo Spirito Santo negli episodi della nascita di Cristo. E gli episodi della nascita di Cristo li ricordiamo molto bene ma sono raccontati in Luca, nel capitolo 1, dove quando Gabriele si presenta a Maria e dice, quando Maria dice ma com'è possibile che io rimanga incinta, dice lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Ora, Gabriele, Geverdi un El, abbiamo visto prima, significa potenza di Dio, potenza di un Dio, potenza di un El. Abbiamo appena visto che nella Bibbia ebraica Gabriele ha definito Ish che vuol dire indubitabilmente, questa non è un'interpretazione, vuol dire uomo, cioè individuo maschio. Quindi qui viene detto, se proseguiamo con ragionamento logico dalle affermazioni derivanti dagli studi del Gesuita Jean Danielou, che siccome lo Spirito Santo e Gabriele sono in realtà la stessa cosa, proprio nelle vicende della nascita di Cristo, e siccome Gabriele è un uomo, a coprire Maria sarà un individuo maschio e lei rimane incinta. Quindi il potere di un El, la potenza di un El o un uomo che esercita il potere per conto di un El, visita Maria, così come gli Elohim visitavano delle donne della famiglia di Abramo e queste donne, dopo la visita degli Elohim rimanevano incinte, qui siamo, pare, nella stessa situazione. L'uomo Gabriele, potenza di un El, identificato con lo Spirito Santo, come dice qui il Vangelo, copre Maria e Maria rimane incinta. Io direi che non c'è bisogno di ulteriori spiegazioni ma c'è molto da riflettere sul modo in cui certe Bibbie hanno cercato, diciamo così, di far dimenticare che Gabriele è un uomo e su come quindi questo Gabriele ci viene presentato come entità eterea spirituale quando forse era tutt'altro. Ciao, grazie e alla prossima.